Commerciali 90 2000, volume 30 Mixa e seleziona Cavaliere DJ Mamma mia che questo era uno dei miei pezzi preferiti, andava molto in discoteca Tanto rocker, memorizziamo mi raccomando, memorizziamo bene questo pezzo Sì 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia C'è che bani data C'è che bani C'è che bani Stacia C'è che bani E sempre lui DJ Forfilla Forfilla C'è che bani Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.